Si dice qualche o alcuni, scopriamolo nel video di oggi. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video, io sono Stefano e sono un insegnante d'italiano per stranieri. Oggi parliamo degli aggettivi qualche e alcuni, capiremo le differenze e ovviamente ti farò vedere alcuni esempi molto utili in contesto. Faremo però anche dei riferimenti al partitivo di più l'articolo perché è collegato a qualche e alcuni. Prima di iniziare però voglio ricordarti che ho una newsletter, quindi se vuoi ricevere tanto materiale interessante per migliorare in italiano totalmente gratis, puoi iscriverti alla mia newsletter cliccando sul link qui sotto in descrizione. Sono sicuro che ti piacerà tantissimo. Ora iniziamo con la lezione di oggi. Prima di tutto, che cosa sono qualche e alcuni? Beh, sono degli aggettivi indefiniti. E perché si chiamano indefiniti? Perché noi li usiamo quando non vogliamo specificare la quantità di qualcosa, perché parliamo di qualcosa che non è specificato in numero. Vediamo subito queste tre frasi. Ho invitato degli amici a casa. Ho invitato alcuni amici a casa. Ho invitato qualche amico a casa. Analizziamo tutte queste tre frasi e iniziamo dalla prima. Ho invitato degli amici a casa. In questa frase abbiamo detto degli, cioè la preposizione di più l'articolo determinativo corretto per amici. Gli di più gli uguale degli. Noi infatti possiamo usare di più l'articolo per indicare una quantità non specificata il numero. Però attenzione di più l'articolo plurale più un nome plurale. Questo è molto importante. Infatti in questo caso ho detto che ho invitato degli amici a casa. Ma quanti amici? Due, tre, quattro, dieci? Non lo so, non è specificato. Una quantità non specificata, un numero non specificato. Vediamo altri due esempi. Ho comprato dei cornetti al bar. Ho comprato dei cornetti al bar. Oppure ho visto delle albicocche sotto quell'albero. Ho visto delle albicocche sotto quell'albero. Alternativamente possiamo usare anche alcuni o alcune per raggiungere lo stesso risultato. Infatti alcuni amici è esattamente la stessa cosa di degli amici. Non c'è differenza. Ricorda però che questo aggettivo esiste solamente nella forma plurale. Maschile alcuni e femminile alcune. Non possiamo usare il singolare alcuno o alcuna. In realtà esiste il singolare ma ha un altro significato. Significa nessuno. Alcuno segue le stesse regole dell'aggettivo indeterminativo un. Per esempio non ho alcun interesse in questa materia. Cioè che non ho nessun interesse in questa materia. Non mi interessa questa materia. Però attenzione alcuno è un po' formale. Di solito utilizziamo nessuno. Ora passiamo a qualche. Qualche ha lo stesso significato di alcuni alcune e di più l'articolo plurale. L'unica differenza e questo è molto importante devi ricordarlo è che qualche si usa con le parole singolari. Però questo non vuol dire che parliamo poi di una cosa o una persona. Cioè se dico qualche amico l'idea è comunque plurale. Infatti qualche amico, alcuni amici e degli amici sono la stessa cosa. Non è che perché dico qualche amico intendo un amico. Sempre una quantità di amici non specificata in numero. Però dato che qualche richiede sempre un nome singolare usiamo il singolare ma l'idea è plurale. Infatti per riprendere le frasi di prima possiamo dire ho comprato qualche cornetto al bar oppure ho visto qualche albicocca sotto quell'albero. Adesso prima di finire con la lezione di oggi volevo aggiungere una piccola cosa. Noi possiamo usare anche di, la preposizione di, più l'articolo singolare, più un nome singolare. In questo caso però non intendiamo necessariamente una quantità non specificata in numero ma più che altro la parte di qualcosa. Ecco perché partitivo. Per esempio se io dico potrei avere del caffè, qui sto dicendo una parte del caffè, magari non tutta la quantità di caffè che hai preparato ma solo una parte. Oppure mi passi del pane, mi passi del pane, cioè non tutta la pagnotta di pane ma una parte di pane, forse una fetta, un po' di pane. Quindi di più l'articolo singolare ha questo significato, la parte di qualcosa con un nome singolare. Con un nome plurale invece generalmente parliamo di una quantità non specificata in numero. Fantastico! Spero che questa lezione ti abbia aiutato e se sì, non dimenticare di lasciare un bel mi piace perché questo suggerisce a YouTube che la mia lezione è buona, è chiara e quindi fa vedere questo video a più persone in giro per il mondo e non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina così non perderai i video futuri che pubblico sul canale. Noi ci vediamo nella prossima lezione, un abbraccio dall'Italia, ciao!